segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te soldi del pnrr e sulla capacità del nostro paese di spenderli io fossi lei sarei molto più prudente non credo che convenga perché le notizie ce ne sono state per l'economia di notizie ottime sul fronte dell'occupazione quindi ma le notizie sono altalenanti di cicli più lunghi non riconducibili al suo operato e quindi la cosa di vantare gli successi e nascondere gli successi è un po infantile non credo che serva moltissimo il paese non sta entrando in una crisi drammatica come molti avevano previsto ci sono dati alternanti e aspettiamo sono d'accordo con giorgia serughetti sul fatto che lei comunque fa un'ottima comunicazione da quando ha smesso di fare le conferenze stampa che il suo debole è il suo punto critico però rischia di diventare un problema sicuramente una capacità hanno fatto una finta conferenza stampa perché lei può fare le conferenze stampa li faceva pure bene da l'opposizione da presidente del consiglio in cui non può attaccare non può dire le cose non è non è il suo mistero però la nuova comunicazione fatta con dei video con come dicevi tu una finta conferenza stampa funziona e sembra e contenuti su quelli sarei più sarei molto più prudente perché allora tu sei